uscire di più ma non intendevo questo non volevo metterti nei guai a che serve uscire se non ti metti nei guai cerco un punto elevato e do un'occhiata vi dico cosa trovo qui c'è un arco dentro il giardino pubblico vedo un cecchino indietro potrebbe scoprirti il drone è partito due sicari ok bersaglio all'edificio fammi trovare una buona posizione pronto all'ingaggio ehi due soldati del cartello là nell'edificio bersaglio eliminato due sicari ditemi dove là nell'edificio ehi due soldati del cartello ditemi dove guardare là nell'edificio marco un nemico ne ho visti dieci marco un capitano ho avvistato diversi sicari accanto all'edificio ok mi muovo occhi sul bersaglio uno in meno vedo una squadra di sicari là dentro l'edificio caraco lo stanno attaccando c'hanno visto e c'è chi non ci prende di mira porca vacca questi non sono capaci granata come mierda puleros granata apro il fuoco su questi stronzi roger raggiungo la posizione vado in posizione vado in posizione roger mi muovo uccisione confermata roger raggiungo la posizione raggiungo la posizione raggiungo la posizione guardiungo la posizione a chi manda? Disparen! Abbiamo già trovato la pizze guarida di questi uomini e non c'è nulla! andiamo a seguire cercando il arcoso pizze raso! Bersaglio eliminato! Granata! Prendete questa! Nessun bersaglio! Ci siete! Aprite il fuoco! Ricevuto! Ficcati! Impegnatevi almeno! Granata! Come ci si sente? Merda! Radies, devo andare a fuoco! Irmettiamoci all'opera. Deve essere qui. Quante stanze ci sono in questo posto? Dengoso! Vieni fuori, asino! Siamo qui per salvarti! Che cingamos esperas? A partire da madre contoro! Vamos ensigliando a quem manda! Disparen! Cazzo, vengono dritti verso di noi. Mi sparano! Occhio all'edificio! Uomo in terra! Abbiamo un uomo in terra! Uomo in terra! Per che cazzo ci hai messo tanto? Uccisione confermata. Granata! Che cingamos esperas? A partire da madre contoro! Vamos ensigliando a quem manda! Disparen! Tra qualche secondo ci saranno addosso. Che facciamo? Attivo il drone. Ok, mi muovo! Fuoco! Ricevuto! Versaglio KO! Roger, mi muovo! Ci siete? Aprite il fuoco! Ricevuto! E' un uomo! Ma' due exposizione! O'eron eso? Auna si esos putus quisieron volar algo en pedazos. a la verga, salenci per aca in chingas preso preso fuori c*** no chiesa Versaglio a terra Dio santissimo E' andato Elicottero unità di pattuglia Uomo a terra, presto Merda, uomo a terra Elicottero unità di Uomo a terra, cazzo Tiro una flashbang Mi sparano, occhio all'edificio Sono pronti a raccolto Elicottero unità Granata, prendete questa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti